Se hai bisogno di soldi, una giunta dell'Axo o completi modati non esitare a contattarmi Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, NextGen e AllGen ragazzi Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS in descrizione trovate i gruppi anche per Playstation E adesso al nuovo video Bentornati raga Qua è Savix che vi parla ragazzi Oggi glitch bomba ragazzi Ringraziamo Simo08 per la soffiata di questo glitch bomba Secondo me è il glitch più bello di sempre ragazzi Allora potrebbe sembrare una presa per il culo Mi scappa anche da ridere ragazzi Mentre sto editando questo glitch perché veramente è una bomba Quindi iniziamo con il glitch Andiamo dallo Santos, compriamo il giubbotto super pesante ragazzi In modo che ce lo equipaggia automaticamente Dopodiché prendiamo il fucile ragazzi Dobbiamo migrare verso la portiera e poi Vabbè Diciamo che dovevamo accucciarci vicino alla portiera ragazzi Quindi torniamo indietro Andiamo dentro lo Santos ragazzi Prendiamo il giubbotto super pesante E lo compriamo In modo che si equipaggia automaticamente ragazzi A questo punto andiamo vicino alla portiera di destra ragazzi Mi raccomando mirate verso la porta e vi accucciate in questa maniera A questo punto dovete andare sul bordo della macchina ragazzi E migrare una decina di volte Come sto facendo io A questo punto mentre voi mirerete Sentirete il pad vibrare ogni volta ragazzi A questo punto non ci resta altro che alzarci Regà E sbada bam Regà Saremo in Godmode Allora non è proprio una Godmode ragazzi Perché Praticamente abbiamo maxato la vita Cioè come potete vedere Simo adesso mi sta distruggendo Comunque ringrazio Simo Per la chicca Per essere iscritto al canale Bella bro Come potete vedere mi sta distruggendo Mi ha sparato Una decina di razzi ragazzi Di RPG Prima di morire ragazzi Quindi Non è che saremo in Godmode Ma la nostra vita Sarà Doppia Tripla Quadrupla ragazzi Regà Che dire Lasciate un like Lasciate un commento Sostenete Xavix Condividete E sbada bam Regà Alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti.